La città si prepara all'inizio di Luca Comitz, che prenderà il via questo venerdì 28 ottobre e durerà fino a martedì 1 novembre. Già esaurita la prenotazione dei parcheggi e l'organizzazione ha quindi previsto un ulteriore spazio straordinario, che verrà predisposto il 29, il 30 e il 31 ottobre al Foro Boario. La nuova area avrà una capienza di 600 posti auto e sarà aperta dalle 7 alle 20, collegata all'evento tramite un servizio di navette. Il Foro Boario andrà ad aggiungersi agli altri 11 parcheggi a pagamento, ai Macelli, di fronte al mercato ortofrutticolo, alle Tagliate in Piazzale Don Baroni, nella zona della stazione, in Viale Luporine per i camper, a San Concordio in Piazza Aldomoro, al Polo Fiere e al Cimitero di Via delle Tagliate. In occasione della commemorazione dei Funti, dal 28 ottobre al 1 novembre, parte del parcheggio del cimitero sarà riservata ai visitatori dello stesso. Le persone con disabilità potranno parcheggiare gratuitamente nei parcheggi riservati al Mazzini e al Polo Fiere.